Bella a tutti ragazzi, shogariiii Benvenuti in Kiwi Benvenuti e bentornati ragazzi, belli ragazzi, belli Benvenuti in questo nuovissimo video di Lego Speed Building Oggi come avete letto dal titolo, oggi andremo a fare questo unboxing Vabbè, unbox ovviamente, se no come cazzo fai a montarlo Unboxing di questo fantastico set Lego di Spider-Man ragazzi Il set Lego di Spider-Man, tutta la casa di Spider-Man, di Spider-Man No Way Home Dove sta il titolo qua? Spider-Man No Way Home ragazzi Quindi il nuovissimo film che è uscito quest'anno E quindi possiamo, però ragazzi, sto proprio bellissimo Perché sto set, vedete, c'ha tutta la casa di dentro E a motocicletta, ma davvero c'è questa motocicletta E beh, è bello pieno, bello corposo questo set Lego Io credo che ci vorrà molto, quindi non so questo video quanto sia durato Spero non più di 20 minuti Spero, voglio sperare, quindi non dilunghiamoci troppo ragazzi Andiamo subito a montare questo set Lego Ma prima vi voglio ricordare, come al solito Di iscrivervi al canale, attivare la campanella Mettere il like, commentare, fare tutto il coso che dovete fare Sempre, mi raccomando, dai e sci, dai e che andiamo subito a montare Mettere il like, commentare, fare tutto il coso che dovete fare Mettere il like, commentare, fare tutto il coso che dovete fare Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Guardate. ci sta. è figo. prezzi. si creano. Ciao. 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 Ciao.